Mi trovo a Taranto in via Dario Lupo. Voglio segnalarvi due situazioni gravissime relative alle pendenze adiacenti ai passi carrabili che hanno provocato danni gravi a persone che sventuratamente sono cadute proprio a causa della pericolosità della discesa. Vedete, qui siamo in via Dario Lupo. Io sto camminando a pochi metri da me. Vedete, c'è il passo carrabile di un garage, di un parcheggio a ore. Vedete, io scendo e qui è assolutamente fuori norma proprio la discesa. Guardate, è troppo ma troppo ripida, è troppo pronunciata di modo che si scivola. Vedete? Qualcosa di pazzesco. Non è una discesa morbida, una discesa che garantisce sicurezza, che evita cadute. Qui si cade e qui è caduta una persona. Guardate, qui è caduta una persona anziana, come dimostrano le foto che vi sto facendo vedere, una signora che ha riportato seri danni fisici, fratture e che è stata ricoverata, ovviamente ha fatto ricorso all'intervento del 118. Vedete, è assurdo. Qui anche una persona che sta bene, non parlo di un anziano, di un diversamente abile, ma qui vedete è quasi inevitabile cadere. Pazzesco. Ma all'epoca chi ha dato l'autorizzazione a determinare una discesa del genere? E ora che vi sto segnalando la situazione si deve porre rimedio, si deve porre rimedio anche a costo di rompere e di far saltare tutto. Addirittura anche alcuni cittadini mi avevano chiesto ma almeno mettiamo, sapete, quelle strisce di gomma, diciamo così, zigrinate che in un certo qual modo evitano proprio la discesa, la caduta perché peraltro si tratta di un tipo di mattone, lo vedete, che è particolarmente levigato, è un mattone molto ma molto liscio che favorisce la caduta, non vi dico poi, con la pioggia. Si diceva in maniera molto artigianale, rudimentale, certamente non decisiva, mettere quelle striscette che almeno ammortizzino diciamo così la discesa. Ma qui si cade, guardate, terribilmente, questo dinanzi a questo parcheggio. Ma ci spostiamo sempre in via Dario Lupo all'altezza del 67, siamo vicini all'Associazione degli Industriali, lo vedete, un altro passo carrabile con una discesa killer, con un vero e proprio gradino, lo vedete? E qui tu cammini e cadi, anche qui, vedete? Vedete come è pronunciata la discesa? Guardate, è pazzesco, è pazzesca una cosa del genere. Anche qui, quale deficiente, quale criminale di funzionario all'epoca ha autorizzato una cosa del genere e ora bisogna porre rimedio. Ripeto, a me non me ne frega niente che si sfasci tutto e non me ne frega niente che i titolari, i proprietari dei garage possano prenderla a male, non me ne frega proprio niente. A me interessa che la gente non deve cadere, non si deve fratturare, come è accaduto, perché le immagini che vi ho mostrato non ve le sto certo inventando io. Guardate, non le sto certo inventando io. E cosa dobbiamo aspettare? Che ci sia la strage? Guardate qui, pazzesco, pazzesco Dio santo. E io mi metto nei panni di di una nonnina, mi metto nei panni di un anziano, di un diversamente abile, di una mamma con il carrozzino, di una persona, di una donna incinta. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma cosa si deve verificare più? Allora ora io ho segnalato la situazione, segnalerò la situazione ai lavori pubblici e voglio vedere che cosa si deve fare, perché deve essere garantita la sicurezza. Queste sono discese non a norma, pericolosissime, sono delle trappole davvero killer. Io sono un consigliere di strada, sto con la gente, mi piace assaporare tra virgolette la voce, il sentimento dei cittadini e i cittadini mi segnalano questo e ve l'ho fatto vedere con le fotografie. Io non dico chiacchiere, signori, voglio solo garantire un minimo di sicurezza alla città.